L'importamento è tutto sbagliato proprio perché l'informazione non è... Combattere la psicosi da coronavirus è necessario informarsi e conoscere il nemico e questo è stato l'obiettivo dell'iniziativa organizzata da farmacie comunali svolto ieri nella sala del Consiglio Provinciale di Pesaro. Nel corso dell'iniziativa sono intervenuti i professori Orazio Cantoni, direttore del Dipartimento di Farmacologia dell'Università di Urbino, Giorgio Brandi del Dipartimento di Scienze e Biomolecolari e tanti altri dove hanno spiegato l'emergenza coronavirus e l'attuale situazione dell'epidemia ai cittadini pesaresi, illustrando le indicazioni del Ministero della Sanità e il rischio reale per la popolazione. Siamo accorti nella gestione di tutte le nostre farmacie che questo argomento è entrato nelle case degli italiani come problematica in maniera molto distorta. Abbiamo pensato di chiamare dei veri e propri esperti, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista dell'azione sulla prevenzione e sulla cura delle eventuali problematiche che potrebbe ancora non manifestare, non potrebbe manifestarsi. L'incontro di informazione per l'opinione pubblica ha documentato il tipo di virus e i sintomi connessi, l'attuale situazione dell'epidemia, la prevenzione, i numeri effettivi di emergenza e infine le indicazioni ministeriali. Da biochimico posso dire che si tratta di un virus RNA, quindi dotato di una più elevata suscettibilità mutare. Credo che dovremmo attendere ancora almeno una decina di giorni per capire come questa epidemia sviluppatasi a Wuhan possa essere contenuta. Questo sarebbe un elemento molto rassicurante, molto più complicato sarà capire le caratteristiche del virus e il modo di contrastarlo. All'incontro è intervenuto anche il presidente della regione Marche. Fino ad oggi non ci sono stati casi nella nostra regione, anche quelli che sono stati visionati non erano esattamente a livello di guardia, ma si è preferito tenere un'attenzione particolarmente elevata e continuiamo oggi con anche una comunicazione più diffusa in punti sensibili come l'aeroporto dove verrà misurata la temperatura a tutti i passeggeri in coordinamento con quelle che sono le direttive nazionali.